Quali sono i diversi tipi di problemi uditivi? Le persone generalmente sviluppano perdita dell'udito o sordità perché hanno uno o più problemi uditivi. Esistono diversi tipi di problemi uditivi derivanti da problemi di elaborazione uditiva nel cervello o da danni a una o più parti dell'orecchio. I problemi includono la difficoltà a comprendere la lingua parlata, i tumori acustici e la perdita dell'udito conduttivo. Molte persone gestiscono e superano i problemi uditivi con dispositivi medici e apparecchi acustici. Un medico specializzato nella cura delle orecchie può fornire al paziente un test dell'udito per diagnosticare un tipo specifico di disturbo dell'udito. I problemi di elaborazione uditiva si verificano quando il cervello elabora in modo improprio i segnali uditivi dall'orecchio interno. Alcune persone hanno difficoltà a comprendere la lingua parlata perché spesso non possono discernere tra suoni simili. Gli individui con problemi di memoria uditiva potrebbero non essere in grado di ricordare informazioni, come un nome o un numero di telefono, che sentono durante una conversazione. Una persona che può sentire bene in una stanza tranquilla potrebbe avere difficoltà a concentrarsi su una conversazione che si svolge in una stanza dove c'è molto rumore di sottofondo. I problemi di udito neurosensoriale si verificano quando i nervi dell'orecchio interno sono danneggiati e le informazioni uditive non sono trasmesse correttamente al cervello. Le cellule sensoriali e i nervi dell'orecchio interno muoiono gradualmente man mano che una persona invecchia e si sviluppa la perdita dell'udito legata all'età. Altre cause di sordità neurosensoriale comprendono l'esposizione a rumori forti, tumori acustici e lesioni alle orecchie. Diverse malattie e disturbi medici, come meningite, diabete e ictus, possono causare questo tipo di perdita dell'udito. La perdita dell'udito conduttivo fa apparire i suoni distorti o sbiaditi. Questo tipo di perdita dell'udito deriva da problemi dell'orecchio esterno o dell'orecchio medio che limitano la trasmissione di suoni all'orecchio interno. Un accumulo di cerume nel condotto uditivo è una causa comune di ipoacusia conduttiva. Le persone che hanno un'infezione nell'orecchio medio o nel condotto uditivo, un accumulo di fluido nell'orecchio medio o un oggetto estraneo all'interno del condotto uditivo possono avere problemi uditivi. Alcuni individui sviluppano la perdita dell'udito come risultato di una miscela di cause neurosensoriali conduttive. Molte persone con problemi uditivi presentano un miglioramento dell'udito dopo aver ricevuto cure mediche o un dispositivo di assistenza. L'accumulo di cerume in un canale uditivo può essere spesso rimosso da un medico se la cera provoca la perdita dell'udito. Un medico può usare una soluzione di olio per ammorbidire la cera ed estrarre con cura la sostanza cerosa. In molti casi, le persone con perdita uditiva permanente utilizzano un apparecchio acustico che viene indossato sopra l'orecchio per migliorare la qualità del suono e rendere l'udito più facile. Gli individui con una grave perdita dell'udito dal danno dell'orecchio interno possono ricevere un impianto cocleare che può migliorare la qualità dei segnali uditivi inviati al cervello.